Giovedì 21 maggio presso l'Istituto Tecnico Agrario Fratelli Navarra di Malborghetto di Boara si è tenuto un momento di confronto tra la ricerca, l'istruzione e il mondo imprenditoriale. Durante l'incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Navarra, il Dipartimento di Colture e Arboree dell'Università di Bologna ha donato all'Istituto una preziosa collezione di riviste specializzate. Alla presenza della preside e del dirigente scolastico della provincia di Ferrara sono stati dati i riconoscimenti agli studenti che lo scorso anno hanno raggiunto la maturità con il massimo dei voti.